Nuova Hyundai 20 Hybrid, ready for you. Superauto, concessionaria ufficiale Hyundai, per le province di Siena e Grosseto. Come appendicio al nostro TG di questa sera è venuto a trovarci, ci fa molto piacere, un nostro amico Luca Gentili, senese, l'uomo che ha girato tutto il mondo con le motociclette. Noi vi abbiamo fatto vedere tanti luoghi dove lui è stato, anche perché ormai avete imparato a conoscere questo programma, per cui è un programma dove Luca con le sue attrezzature di ripresa ci porta a spasso per il mondo, ci fa vedere tantissime cose, molto inusuali, per cui significa che è una persona, un filmmaker, che riesce a prendere, capire e portare poi da noi nella nostra emittente tanti luoghi del mondo che abitualmente non sono fruibili su film o informazioni particolari. Allora, è tornato dalla Nuova Zelanda, vedremo queste quattro puntate, un percorso molto bello. Nuova Zelanda poi vedremo anche un dagli acciai del Denali al deserto del Mojave, cioè Ancoraje to Los Angeles. Ancoraje to Los Angeles, esatto. Poi ha fatto anche la carrettera australe, la ruta 7, poi è stato in Islanda al Ring Road e poi dall'Italia al Zara. Cioè, praticamente Luca, te sei sempre a giro, va? Allora, vi racconto una cosa buffa, perché a un certo punto io tengo sempre il GPS acceso, e quindi Google mi registra tutti i movimenti, ma a un certo punto mi arriva, perché tutti i mesi si arriva il refilogo degli spostamenti che hai fatto, e ti fanno vedere tutti i puntini rossi dove sei stato, le località dove sei stato. A un certo punto mi ha fatto, c'era scritto, hai fatto, in un anno, 1.9 volte il giro della Terra e mi mette a tutti i puntini rossi da tutte le parti. Ora, è una battuta, però in tutti i puntini rossi c'era sempre qualcosa, un ricordo, un punto, e copriva effettivamente tanti posti dove sei stato. Questi che vedete sono alcuni dei film che stiamo preparando. Lanciamo ora questo della Nuova Zelanda, che è uno dei luoghi al mondo veramente particolari, perché è l'isola degli uccelli, è l'isola che non ha avuto mammiferi fino al 1800, quando sono arrivati gli europei, prima sono arrivati i maori, poi sono arrivati gli europei, e solo gli europei hanno portato mucche, cavalli, cervi, pecore, opossum e ermellini. Quindi hanno fatto un po' di disastri ambientali, perché questi animali scappando hanno ucciso circa più di mille specie di uccelli, mangiando le uova e gli uccelli stessi nei nidi. Chiaramente tutti gli animali che sono stati introdotti non avendo antagonisti, esplode la popolazione, quindi esplode la popolazione, la popolazione di cervi le ammazzavano sparando dall'elicottero, perché era impossibile sostanzialmente controllare, non avendo antagonismi. Questo è un aspetto che può vi sembrare un po' crudo, però bisogna capire nell'ambiente, qui vedremo il tema ambientale, se ne è parlato, sarà una delle cose molto importanti, perché vi porterò in luoghi veramente particolari, tra le cose sono luoghi dove è stato girato grande parte del Signore dell'Anelli, quindi scenograficamente sono posti strepitosi. L'isola del Sud è un'isola sostanzialmente con pochissima abitata e che ha delle particolarità, delle emergenze. Tutte queste cose le vedremo nelle prossime puntate andando l'onda sul canale 3 Toscana, però io vorrei che tu raccontassi a noi telespettatori come ti organizzi, c'è un viaggio del genere, che cosa comporta a livello organizzazione, a livello permessi, a livello di tutto. Allora, io mi sono mosso anche in periodo di Covid, qualcuno pensava, ah non ci si muove, siamo a casa, ecco io in periodo di Covid sono andato in Cile, ho dovuto tradurre il mio Green Pass nel MeVacuno, chiaramente io preparo più viaggi insieme, perché è difficile capire spesso come era nel periodo del Covid anche le tempistiche, io riesco a prenotare una moto, a prenotare un biglietto aereo, però poi quando c'entra, come era nel periodo del Covid, la traduzione del nostro Green Pass nel MeVacuno, che era il loro Green Pass, è stata abbastanza complicata, è stato complicato anche spostarsi, perché richiedeva molti tempi, perché dovevi fare la quarantena, quindi che poi era una quarantena, ti rifacevano il vaccino, stavi 24 ore ferme e poi potevi accettare, quindi si dilatavano tutti i tempi, sono stato in Marocco al tempo del Ramadan, ma alla fine del Covid, anche lì è stata una roba piuttosto complicata, perché non sapevo se poteva prendere la nave, perché l'accesso era solo l'aereo, comunque i viaggi sono sempre molto compresi, però grossomodo io per le Americhe ho una persona che mi trova le moto e me le sposta o mi trova in modo di noleggiarle sul luogo, biglietti aereo ormai si fanno molto facilmente, c'è alcune procedure su viaggiare sicuri del nostro governo dove andare a dire dove vai, fare tutte le tappe, prendi delle precauzioni. Ora una cosa Luca, quanti vaccini bisogna fare? Eh no, devi andare al centro vaccini e vedere quello che c'è bisogno di fare, è chiaro, preparare questi viaggi preparandoli da solo, non con un'agenzia, ti costringe a diventare, a essere capace di informarti, di capire quali sono le cose indispensabili da fare, te non puoi andare in un posto se non sei vaccinato contro determinate malattie, perché ovviamente diventa pericoloso, oppure non entri proprio perché se non c'è quel tipo di vaccino. Quindi è chiaro, abbiamo in Italia delle cose fatte molto bene, intanto si parla male dell'Italia, per esempio il centro vaccini di Siena è organizzatissimo, è un po' affogato dal tempo del Covid, però prima che ci fosse questa emergenza io spesso andavo informati da loro per capire quali tipo di vaccini, poi alcuni li sceglievo, perché non tutti erano obbligatori, alcuni li facevo anche se non erano obbligatori e si cominciava a fare queste cose, quindi è chiaro che organizzare questi viaggi richiede un minimo di esperienza. Altra cosa, quante lingue bisogna sapere? Ma con l'inglese si va dappertutto, l'inglese si va dappertutto e poi c'è il famoso lingue gesti, vi racconto un aneddoto, in Laos mi si rompe la moto, mi si dita a metà, mi si salda al telaio, io sono in un villaggetto spredduto del Laos e ero a due chilometri da questo, anzi a due chilometri da questo villaggio, quindi riporto la moto in qualche maniera nel tuo villaggio e lì l'inglese, non c'era nessuno che parlava inglese e anche le gesture, cioè quello che noi facciamo, il simbolo di mangiare, sono completamente diverse. Poi gli italiani siamo bravi. Siamo bravi, però non ce l'ha verso, io parlavo con un adulto, alla fine un bambino che forse è più vispo del vecchietto con cui stavo parlando, mi prende per la giacca, mi porta in una panna dove c'era un gruppo elettrogeno, un sacco con le cose e una saldatrice e io riesco a ripartire e arrivare all'uombra banca. Hai saldato te? No, ma saldato questo picco, i Ray-Ban aveva invece la maschera per saldare, fantastico, però vedete, in qualche maniera si si arraggia. Senti, e il mangiare in questa tua girovagana in tutto il mondo, cosa si mangia? Allora, innanzitutto come si mangia in Italia? Non si mangia, da nessun'altra parte, nessuno mi dica… E questo diciamoci, lo diciamo. Diciamo, noi italiani siamo bravissimi, torniamo ora dalla Sicilia, per non troppo leggerla alla Toscana, la Sicilia è uno dei posti dove si mangia meglio che in tutte le altre da parte dell'Italia, lasciamo da parte la Toscana. Però ecco, in questi posti è chiaro, ti devi un po' abituare. In America non c'è niente, sono tutti cibi etnici e non c'è niente di buono, a parte in Nuova Zelanda abbiamo trovato alcune cose di eccellenza, ma pochissimo, qualche vino buono, anche in Cile. In Cile tutto quello che è mare, perché è facile da cucinare, dalle ostriche a frutti di mare, questo anche in Nuova Zelanda, perché quando si vada alle mare il pesce è facile, la cucina, basta sia fresco. Ecco, ma gli spaghetti si trovano a tutte le parti? Ma gli spaghetti evitano. No, ma come per marmi si trovano, no? Sì, si trovano, però… Sì, non le sanno cucinare, perché è un disastro. Sì, allora, dovete considerare che anche io non vado… La pizza? La pizza si trova, però io cerco di non andare nei grandi alberghi, perché preferisco, uno, per motivi economici, voglio fare molti viaggi l'anno e quindi voglio spendere meno possibile, sempre in roba decente, e che si possa andare, che non ci siano gli animali nel letto, per dire, però cerco di avere un approccio molto basico al viaggio, perché poi viaggio in moto, con la borsa sulla sella, senza assistenza, quindi questo è il tipo di viaggio che mi piace fare. Chiaramente, quindi per tornare a mangiare, appunto, si mangia le cose che si trovano, quando si parla di pasta asciutta, anche questo è un aneddoto, in Vietnam si mangiava il phobo, che è questo brodo vegetale con i noodles, questa pasta fatta da un riso, e c'era delle fettine di carne, no? Quindi poi a un certo punto vado in un mercato e trovo i cani arrosto, no? E quindi dal giorno dopo abbiamo detto, ma sarà phobo o phobau? Perché, ecco, queste sono le avventure, entri in un mercato e vedi tutti i grilli fritti, cioè, allora, trovi anche queste cose qui, sono molto, per noi sono folcloristiche, folcloristiche, per loro sono un cibo. Come organizzi le riprese? Anche perché praticamente devi fermarti, devi studiare dove sei, cosa sei, cosa riprendere, anche perché c'è un po' c'è da fare, no? Giusto? Sì, sì, c'è anche da guidare la moto. Considerate che durante il viaggio gli spostamenti sono sempre minimo 200 km, da 200 ai 500 km, tranne il viaggio, ora siamo andati in Marocco, e i primi giorni si è fatta anche 8-900 km tutti i giorni in moto. In moto è abbastanza faticoso fare queste siglazze, non è una roba proprio... La schiena, per ora sta bene, quindi... Però, ecco, ti dicevo, quindi, queste particolari riprese vengono fatte con alcune camere particolari. Vabbè, la classica GoPro è una di ultima generazione con una lente grandangolare e uno stabilizzatore di immagine, quindi vedrete molta differenza tra i film filmati che facevo, perché cambia molto l'attrezzatura e l'accessibilità a attrezzature molto più performanti, quindi la GoPro di oggi non è certo la GoPro di 4-5 anni fa, ha addirittura un stabilizzatore, non solo lo stabilizzatore, quindi non balla l'immagine, ma puoi regolare l'orizzonte, il modo dell'orizzonte rimanga sempre orizzontale, anche se te c'è il capo storto rispetto a... Quindi c'è molto aiuto a parte la tecnologia. Allora, di GoPro ne porto sempre due o tre che appiccico in qualche... una nel casco e in altri posti, poi adopro una telecamera... Tanto si può fare pubblicità, abbiamo detto che l'ora, una Insta 360, è una telecamera con due camere e che quindi può riprendere in qualsiasi direzione, fai la regia in post-produzione, quindi è una telecamera che è come se te fossi dentro una sfera, il centro della telecamera è dove è appoggiata e quindi riprende tutti e 360 gradi in qualsiasi direzione. E quindi questa è la seconda telecamera e dove è possibile porto un drone. Dove è possibile perché le normative negli ultimi anni sono sempre più restringenti e non si possono portare questi droni non si può... Per esempio in Nuova Zelanda ho preferito non portarlo perché era praticamente inutile, non... c'erano molti divieti e... Ricordatevi a volare. Sì, il problema è se te lo sequestrano all'aeroporto e soprattutto dove ci sono controlli. Nuova Zelanda è un paese molto civile, è considerato il paese, quindi è possibile che ti succedano queste cose qui che insomma ti controllano, non è come quando siamo passati in alcuni porti dove non ti controllava nemmeno il metal detector, cioè arrivavi e passavi ci potrebbe essere un bazooka dentro la borsa, tranquillamente, è così, quindi senza nessun tipo di problema. Ecco, i viaggi in coppia o viaggi in gruppo, cioè quale preferisci? Allora, dal punto di vista delle riprese, del rapporto con le persone, quando siamo uno o due persone, cioè ti puoi fare un viaggio da solo, con un compagno, è migliore, perché sei più obbligato, è quello che mi piace, a avere un rapporto con le persone del luogo. Mentre quando siamo in un gruppo di 4-5 persone, come mi capita, viaggi e faccio molto volentieri, mi fraintendete. Che cosa succede? Tendenzialmente tendiamo a stare con i nostri amici a parlare fra di noi e quindi ti perdi una gran parte della bellezza del viaggio che è anche avere contatti umani. Nell'ultimo viaggio, questo qui a un certo punto eravamo in un piccolo diner a fare colazione, quindi sera in Nuova Zelanda, ci avvicina questa cameriera che era cilena, no? Quindi si mette a chiacchierare, non c'erano clienti, ci erano noi soli, e si mette a chiacchierare, ah ma dove è? Siamo stati in Cile e mi metto a raccontargli del Cile. Questa ragazza era quasi due anni da lì, non era più potuta tornare perché non aveva soldi per pagare il biglietto, quindi faceva un lavoro abbastanza umido, faceva la cameriera e io gli racconto dei posti che avevo visto nel sud del Cile e mi rendo conto che cambia il volto di questa persona, si intristisce un po' e mi dice, te hai visto luoghi della mia terra che io non ho mai visto. E mi commosse. Colpisce, eh? Capito? Cioè, come dire... Come fosse prigioniera. Esatto, esatto. E quindi questo è proprio il rapporto umano che vi sto dicendo, è questo che devi andare a cercare in un viaggio. Sì, poi puoi andare con la fidanzata, è bene, però il bello è proprio incontrare le persone. Allora, Luca Gentili, vedremo l'informazione nei giorni di Messa Nonda, queste quattro puntate sull'isola degli uccelli, siamo in Nova Zelanda, è un viaggio che lui ha fatto nei primi mesi di quest'anno, poi sta montando questo da Alaska a Los Angeles, poi la carrettera australe, poi sta montando Islanda Ring Road e poi dall'Italia al Sala. Per cui seguiteci, avremo questa libreria enorme da farvi vedere. Via via che Luca, che poi continua a viaggiare, non è che sta fermo. Questo neanche se l'onchiodi rimane fermo a Siena. Via via che lui le monta, ce le porta, noi le mandiamo in onda. Però abbiamo già deciso a livello di gestione palinzesto, in estate riproporremo tutti i viaggi che abbiamo già fatto vedere ai nostri telespettatori, per cui faremo tutta una bellissima libreria di viaggi in moto che Luca Gentili ha fatto e che gentilmente ci porta, così li possiamo fruire tutti. Allora Luca, grazie. Grazie a te. Stai bene, fai un buon viaggio e noi aspettiamo. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci.